dunque siamo sempre nella parte prima parliamo sempre di dio e la questione 24 e tommaso dato che è nel suo progetto realizzare una summa quindi non solamente trattare determinati argomenti ma nel suo progetto si vuole considerare tutto quello che può essere messo sul piatto e può essere oggetto di valutazione sia da un punto di vista scientifico filosofico sia da un punto di vista diremo noi con parola molto semplice un avverbio religiosamente ma noi intendiamo con religiosamente qui la rivelazione cioè quello che è contenuto nei testi sacri e che evidentemente per un credente è parola di dio poi c'è chi considera questi testi sacri ma quando non conviene l'invito l'esortazione o il divieto trova la scusa che i tempi sono cambiati e che quindi bisogna adattarsi alla nuova situazione fenomenologica e non è così e tommaso valuta attentamente questi testi e naturalmente ci sono come ho già detto delle citazioni che la sono un po perplessi perché sono un po isolate dal contesto ma probabilmente tommaso risponde a quel modo di intendere che era allora quel modo di porsi nella discussione al confronto che era da riferirsi a quei tempi e alle citazioni che erano considerate importanti allora in riferimento a chi ne era il soggetto l'autore il libro della vita sostanzialmente dice tommaso è là dove in una prospettiva metaforica sono contenuti i nomi di tutti coloro che sono destinati alla gloria eterna non dice molto di più di quello che abbiamo definito nella predestinazione però secondo me ci sono alcuni chiarimenti che ci danno una prospettiva forse più completa del pensiero di tommaso che nella questione precedente era tutto esclusivamente attento a insistere sul fatto che la gloria può essere conseguita solo attraverso un dono esplicito di dio perché l'uomo da solo non la può conseguire trovandosi nella sua condizione di peccato e d'altra parte questa condizione di imperfezioni in cui noi ci troviamo è reale basta conoscere un po' di storie evidentemente non la storia fatta di raccontini come troviamo qui su youtube cosa ha fatto tizio che cosa ha risposto caio quali sono ma la storia che diventa un insegnamento e allora vediamo che l'uomo si trovato sempre oggi poi non più più che mai in una condizione in cui è difficilissimo poter mettere in atto l'invito divino e la novella del vangelo anche se io sento ho sentito un un predicatore che dice essere cristiani non bisogna fare nulla di straordinario e non è proprio così perché prova a vivere non chiuso in una cattedrale ma prova a vivere la vita di un operaio di un infermiere di uno scaricatore di porto di un poliziotto ma anche solo di un insegnante insomma ti trovi di fronte a un modo di fare a un senso comune contro cui è molto difficile porsi a meno di essere considerati retrograti ormai sorpassati no ecco perciò attenzione che il pensiero di tomaso è quanto mai attuale e si pone in alternativa a certi atteggiamenti di una superficialità disarmante allora che cos'è questo libro della vita sembra che il libro della vita non sia la stessa cosa della predestinazione devo vedere subito il pensiero di tommaso prima si rifà una glossa alla glossa commentando il seguente versetto dei salmi i salmi dicono siano cancellati dal libro dei viventi e la glossa dice questo libro è la conoscenza di dio per la quale egli ha predestinato alla vita quelli che ha preconosciuto per me queste citazioni ci danno una visione un pochettino più completa di quella che è stata esposta nella questione precedente quindi la conoscenza di dio e la prescienza per la quale dio ha predestinato coloro che ha pre conosciuto naturalmente deve prima conoscerli non è una predestinazione cieca vediamo la risposta di tommaso si parla in senso metaforico del libro della vita in dio è evidente tante volte l'abbiamo detto già nelle prime questioni non è che ci sia un libro e lì sono scritti i nomi dei predestinati sono espressioni che vengono utilizzate comunemente anche nella nel nostro nel nostro quotidiano e quindi parliamo di libro della vita c'è l'uso tra gli uomini di scrivere un libro coloro che sono letti a qualche ufficio d'altra parte si dice con una metafora che è scritto nella mente di qualcuno ciò che egli tiene fisso nella memoria quante volte lo diciamo scrivitelo imprimetelo bene nella mente queste sono cose importanti non è che uno da mettersi a scrivere nella mente e infatti nei proverbi tre tre scrivili sulle tue sulle tavole del tuo cuore quindi attenzione che questo pensiero deve essere inteso in senso metaforico vediamo nella scrittura si racide tutte queste cose sono il libro della vita la grossa commenta il nuovo e il vecchio testamento ora ciò non è la predestinazione allora il libro della vita che cos'è è la dove sono scritti i nomi di coloro che sono destinati la gloria eterna oppure è il nuovo e l'antico testamento la risposta di tommaso è molto chiara per sì il libro della vita si può intendere in due sensi per disegnare l'iscrizione di coloro che sono letti alla vita e si può dire libro della vita la trascrizione delle cose che conducono alla vita ecco che di nuovo qui le cose vengono messe un pochettino più al loro posto vi avevo già detto nella questione precedente che erano molto in sintonia almeno come sono state presentate è stato presentato questo pensiero qui invece si dice libro della vita sostanzialmente la bibbia e nella bibbia cosa c'è scritto c'è scritto qual è la volontà di dio per raggiungere la vita eterna per arrivare alla gloria eterna quindi questa è la condizione se tu non fai la volontà di dio tu non aggiungi la condizione di vita eterna ecco l'importanza di conoscere la bibbia ritorna nuovamente la formula no per servire dio devo conoscerlo ma per conoscerlo devo aprire la bibbia e vedere un po come dio si è riposto qual è stata la sua liberazione che cosa ha voluto dagli uomini che cosa ha voluto dal suo prima dai singoli ad amo ed eva no poi da noè e poi dal suo popolo avranno isacco giacobbe e poi il tradimento del suo popolo e poi quello che ha voluto dagli apostoli e qual è stato il compito riservato agli apostoli insomma e poi naturalmente quelle regole che vanno al cuore degli uomini stabilite con mosè e perfezionate dall'amore cristiano quindi si parla del libro della vita anche in riferimento a tutte le cose che conducono alla vita o delle cose che bisogna fare bisogna fare questa è la condizione e così possiamo chiamare il libro della vita il nuovo e del vecchio testamento o delle cose che già furono compiute e allora possiamo chiamare il libro della vita quella forza divina che farà tornare in mente a ciascuni propri atti ecco questo è il senso più ampio di libro della vita libro della vita quindi si può considerare anche il testo sacro quindi la bibbia sant'agostino dice che il libro della vita è una certa forza divina che farà tornare in mente ad ognuno tutte le proprie opere buone cattive ora la forza divina si riallaccia la tributo della potenza cosa c'entra la predestinazione dice questa argomentazione vediamo la risposta è sciolta così anche la seconda difficoltà in che modo facendo riferimento alla prima risposta è una forza divina certo che è una forza divina però intesa come parola di dio la bibbia però in senso più lato quindi ritorniamo nuovamente alla risposta precedente libro della vita da intendersi propriamente come libro in cui sono scritti i nomi metaforicamente di coloro che sono salvati ma libro della vita e anche la parola di dio quella che ci dice cosa dobbiamo fare e quello che ci dice quello che dio ha fatto con i nostri antenati con il popolo eletto nell'incarnazione alla predestinazione si oppone la riprovazione se dunque il libro della vita fosse la predestinazione dovrebbe esserci un libro della morte non è detto che sia così risponde tommaso non c'è l'uso di scrivere gli scartati ma solo gli aletti perciò la riprovazione non corrisponde libro della morte anche perché c'è la dominatio memoria chi è agito contro dio è giusto che venga dimenticato noi ricordiamo nella nostra liturgia i santi coloro che ci danno un esempio non andiamo a ricordare i reprobi è la storia dell'uomo che ricorda i reprobi i violenti ed è la storia dell'uomo che considera i reprobi i mani i grandi oggi noi conosciamo ancora gli effetti spaventosi dello stalinismo dell'emilismo del nazismo del fascismo di tutte queste porcherie dal maoismo eccetera e ricordiamo il nostro cuore ne è scioccato respingiamo queste violenze però le ricordiamo con la scusa che bisogna avere la memoria di tutto però quando queste violenze si allontanano nei secoli quindi dalle azioni violente dei romani dei greci dei macedoni con alessandro magno di napoleone di tutta questa gente qui bene noi chiamiamo questi personaggi magni ma è la storia dell'uomo che li ritiene grandi la storia di dio è la storia che dimentica la violenza per ricordare gli esempi perché l'esempio deve essere messo con una luce sulla alla finestra perché sia un punto di riferimento no il buio non potrà mai essere un punto di riferimento e abbiamo visto che il male è la mancanza di luce dunque perché dovrei fare riferimento ai violenti che hanno causato molto spesso milioni di morte di morti ecco qui la risposta poi c'è anche una risposta un chiarimento alla quello che abbiamo letto 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 del set contra questo libera conoscenza di dio vediamo cosa dice tommaso il libro della vita differisce dalla predestinazione concettualmente perché vi aggiunge l'idea di conoscenza c'è c'è una conoscenza la predestinazione semplicemente è volontà di dio a portare gli uomini alla alla gloria attraverso quella grazia concessa ai suoi figli qui invece si aggiunge c'è un libro e il libro stesso perché sia tale vuol dire che ha dei contenuti e quindi se ha dei contenuti fa riferimento alla conoscenza articolo 2 vi detto sembra che il libro della vita non riguardi soltanto la vita gloriosa dei predestinati vediamo già subito il pensiero di tommaso come abbiamo detto il libro di vita della vita importa una certa iscrizione a conoscenza di coloro che sono letto la vita quindi anche abbiamo appena detto una visione di conoscenza il fine che trascende la natura è la vita della gloria perciò a rigore il libro della vita riguarda la vita della gloria quindi siamo come abbiamo detto prima no si è il libro della vita riguarda i predestinati poi in senso più lato riguarda la bibbia poi in senso lato è anche una conoscenza non è semplicemente predestinazione però a rigore dovrebbe riguardare solamente la vita della gloria coloro che hanno conseguito finalmente e quelli che conseguiranno nella presenza divina la gloria finale a questo punto vediamo le argomentazioni il libro della vita è la conoscenza della vita ora dio mediante la sua vita conosce ogni altra vita dunque il libro della vita concerne la vita divina la risposta la vita divina anche in quanto è vita gloriosa è naturale per dio quindi riguardo a lui non vi è elezione e per conseguenza neppure un libro della vita dio non viene eletto anche se la sua vita è una vita gloriosa quindi non ha non ha riferimento il libro della vita alla vita divina perché abbiamo detto è il libro della vita un libro di elezione e dio non è eletto da nessuno voi penserete e lo penso anch'io ma cosa serve chiarire tutto questo chiarire tutto questo vuol dire poi permettere un discorso successivo che non cada in contraddizione come invece cadono in contraddizione in una diatriba continuamente inutile i pensieri di certi opinionisti di oggi che buttano lì le loro opinioni senza fondamento tommaso non procede in questo modo seconda argomentazione dovrà chiamarsi il libro della vita anche la conoscenza della vita naturale no no perché perché nella vita naturale non si dà elezione e quindi non ci sono non c'è bisogno del libro della vita la vita naturale non ha bisogno di un'elezione la vita naturale non ha bisogno di una grazia particolare per poter concretizzarsi la vita gloriosa si ha bisogno di un'elezione ha bisogno di un intervento divino quindi la vita naturale non ha nulla a che vedere col libro della vita sono elette la grazia alcuni che pure non sono elette alla vita gloriosa come appare chiaro da ciò che è scritto nel Vangelo di Giovanni a me piacciono queste argomentazioni perché in un certo senso rientra dalla finestra quello che sembra sembra che sia stato buttato fuori dalla porta nella questione precedente Vangelo Giovanni 671 non ho forse scelto io voi i dodici guardate è bellissima questa cosa eppure uno di voi è un diavolo scegliere ed eleggere qualcuno qui devo aprire la mia parentesi perché questa citazione evidentemente conferma il mio pensiero eleggere qualcuno e per me Dio ha eletto ormai in Cristo grazie al sacrificio di Cristo ha eletto tutti gli uomini non vuol dire che gli uomini abbiano tutti corrisposto a questa elezione addirittura il verbo la parola di Dio incarnata sceglie dodici uno è un diavolo e fate attenzione costui è vissuto a contatto a pelle per tre anni vicino alla parola incarnata al verbo di Dio gli altri undici uno lo tradisce e altri nove lo abbandonano essere scelti da Dio non vuol dire non peccare mai la debolezza è grande ma è per questo che Cristo è venuto in questo mondo attenzione quindi a giudicare i fratelli che poi noi non combattiamo delle cose peggiori il fratello può pentirsi noi possiamo pentirci e ritorniamo ad essere tra coloro che fanno parte del libro della vita ma allora che cosa fa Dio prima mette poi cancella mette e cancella no Dio nella sua presenza sa alla fine come finiranno le cose ma con questo vedete che siamo noi gli artefici del nostro destino grazie ai mezzi che riceviamo da Dio in ogni modo questa citazione che per me è molto importante tuttavia è qui in un contesto leggermente differente e qui si chiarisce una posizione che per me secondo me è ancora più importante c'è una predestinazione? secondo me sì una predestinazione alla gloria Dio ha scelto qualcuno indubbiamente che ha già predestinato alla gloria ma poi a tutti gli altri ha dato la grazia la grazia che può condurre alla gloria secondo la risposta dei singoli allora proviamo a rileggere sono eletti alla grazia alcuni che pure non sono eletti alla vita della gloria come appare chiaro da ciò che è scritto nel Vangelo vedete io ho scelto voi Giuda è stato scelto ha ricevuto la grazia eppure eppure la sua risposta non l'ha portato alla gloria ora il libro della vita è come abbiamo detto l'iscrizione divina degli aletti dunque riguarda anche la vita della grazia vediamo un po' cosa risponde Tommaso la vita della grazia non ha ragione di fine ma di mezzo al fine coloro che ricevono la grazia non vuol dire che necessariamente siano destinate alla gloria quindi la grazia è un mezzo per raggiungere un fine quindi alla vita della grazia uno non si dice eletto se non in quanto la vita della grazia è ordinata alla gloria e per questo motivo vedete che noi cominciamo anche a capire un po' meglio il significato dell'eletto gli eletti non è che necessariamente l'eletto è destinato alla gloria gli eletti siamo noi che riceviamo la grazia ma se noi non corrispondiamo se non apriamo quella porta non siamo destinati alla gloria attenzione che eletti predestinati chiamati sono vocaboli che se presi così alla lettera entrano in contraddizione è necessario cogliere poi alla fine una sintesi del tutto e per questo motivo coloro che hanno la grazia e non raggiungono la gloria non si dicono eletti semplicemente ma solo sotto un certo aspetto ho messo un punto interrogativo quale aspetto il fatto cioè per evitare confusioni che sono stati chiamati ma non hanno corrisposto abbiamo poi il set contra il libro della vita e la conoscenza della predestinazione ora la predestinazione non riguarda la vita della grazia se non in quanto è ordinata la gloria giacché non sono predestinati quelli che hanno la grazia e non giungono alla gloria quindi coloro che hanno la grazia e secondo me tutti gli uomini in una maniera o nell'altra hanno e ricevono questa grazia in situazioni differenti però non ci corrispondono vi ricordate che proprio all'inizio insisteva Tormaso nel dire che anche se non c'è la parola divina anche se non c'è la Bibbia tuttavia è stata scolpita nell'uomo delle leggi che devono regolare la sua coscienza quindi noi non sappiamo cosa sarà di coloro che non hanno potuto conoscere il Cristo però attenzione che anche noi siamo responsabili di questa ignoranza perché il compito del cristiano è di andare a predicare sotto questo punto di vista i testimoni di Geova ci danno un esempio quindi vedete che molto spesso anche nelle divisioni i protestanti i riformati che esempio ci danno ritornare al testo alle parole della Bibbia non basta il catechismo che esempio ci danno i testimoni di Geova andare a predicare bussare alle porte anche se possono essere quanto mai noiosi vedete Dio che permette delle cose terribili come la divisione ma per trarre da questa divisione una gloria maggiore l'importante è accostarsi alla storia e agli eventi con umiltà cioè disposti ad accogliere l'insegnamento che ci arriva anche in questo caso dai fratelli separati articolo 3 sembra che nessuno possa essere cancellato dal libro della vita vediamo subito il pensiero di Tommaso sta scritto Salmo 68 29 siano cancellati dal libro dei viventi quindi Tommaso ritiene che si possa essere cancellati si usa dire che uno è cancellato secondo l'opinione degli uomini secondo questo modo di parlare si afferma che alcuni sono iscritti del libro della vita in quanto gli uomini credono che vi siano iscritti a motivo dello stato di grazia che al presente scorgono in essi e quando si vede in questo mondo o nell'altro che sono decaduti dallo stato di grazia allora si dice che ne sono cancellati Salmo 68 siamo cancellati dal libro dei viventi allora il cancellare dal libro della vita è una prospettiva umana io vedo un sant'uomo e dico ma guarda questo certamente è destinato alla gloria poi ne vediamo invece un altro che si comporta da delinquente questo è destinato alla riprovazione non teniamo conto che chi è santo può peccare in modo inesorabile e chi è delinquente e peccatore può rivedersi perciò cancellati dal libro della vita nella nostra prospettiva non nella prospettiva di Dio ma siccome tra i premi dei giusti vi è imposto anche quello di non essere cancellato dal libro della vita secondo il detto dell'Apocalisse chi vince sarà dunque vestito di bianche vesti e non cancellerò il suo nome dal libro della vita si può dire che essere cancellato o non essere cancellato dal libro della vita non va riferito soltanto all'opinione degli uomini ma anche alla realtà il libro della vita infatti è l'iscrizione degli esseri destinati alla vita eterna ora uno può essere ordinato alla vita eterna in due maniere o per predestinazione divina e questo è un chiarimento che ci doveva essere Dio può predestinare alla salvezza e allora se Dio predestina una sua creatura alla salvezza ebbene assolutamente nessuno può cancellare questa creatura dal libro della vita perché lo fa non lo sappiamo l'abbiamo già detto le ragioni sono ipascoltabili e probabilmente noi non le vedremo mai anche coloro che raggiungeranno la gloria potranno contemplare Dio abbiamo proposto nelle questioni precedenti la citazione dantesca è in forza della grazia di fatti chiunque ha la grazia di suo è degno della vita eterna ma alcuni pur essendo ordinati a motivo della grazia ricevuta a possedere la vita eterna tuttavia non la raggiungono per il peccato mortale ecco qui che finalmente viene confermata con chiarezza quello che nella questione precedente abbiamo letto solamente sulla sulla nota sul commento del padre che ha commentato l'opera di Tommaso da qui quindi c'è una grazia di suo però infatti chiunque ha la grazia di suo però non basta la grazia se questa grazia non viene aperta nella nostra vita quotidiana e si vive nell'inimicizia con Dio non si può arrivare alla gloria eterna questi ultimi possono essere cancellati dal libro della vita ma non nella visione della predestinazione divina Dio sa alla fine chi sono quelli che raggiungeranno la gloria e quelli che si perderanno vediamo qua Sant'Agostino dice che la prescienza di Dio la quale non può fallire è il libro della vita ora alla previsione di Dio come anche alla predestinazione niente può essere sottratto la risposta la cancellatura nel libro della vita non va riferito alla prescienza ma alle persone preconosciute le quali possono cambiare come si è spiegato la prescienza divina non cambia quindi quando noi parliamo di cancellare dal libro della vita questo vale per le persone non per la prescienza divina la prescienza divina è quella e l'eterno presente non può mutare andiamo alla seconda il libro della vita è qualcosa di eterno imbutabile dunque tutto ciò che è in esso non vi si trova temporalmente ma in maniera mutabile indelebile questo è sempre sul discorso che nessuno può essere cancellato dal libro della vita sebbene le cose esistono in Dio in maniera immutabile in se stesse sono mutevoli e a questa mutabilità si riferisce l'essere cancellato in libro della vita in Dio tutto è immutabile ma perché Dio conosce già il risultato finale i singoli invece possono attraverso la non corrispondenza alla grazia divina l'esempio è stato quello di Giuda essere cancellati ma Dio sa già essendo l'eterno presente che Tizio o Caio saranno cancellati quindi non alla fine non entreranno a far parte del libro della vita e quindi della predestinazione se vogliamo utilizzare quel vocabolo che per me è quanto ambiguo cancellare è il contrario di scrivere ora nessuno può essere iscritto nuovamente nel libro della vita dunque non può essere neppure cancellato qui mi pare che giochiamo su dei sofismi ma evidentemente Tommaso ha dovuto riportare anche questa osservazione perché era probabilmente un'osservazione proposta a suo tempo come si dice che uno è cancellato dal libro della vita così si può dire che viene nuovamente iscritto ma questo sempre nella prospettiva dell'uomo o secondo l'opinione degli uomini o in quanto comincia per la grazia ad avere nuovamente ordine a vita eterna tutto ciò cade sotto la conoscenza divina ma non come cosa nuova è per noi che c'è questa iscrizione oppure cancellazione Dio evidentemente conosce questi momenti ma se noi vogliamo intendere il libro della vita come un fatto finale decisivo questo è conosciuto da Dio e non ha cambiamenti non ci possono essere mutamenti e con questo abbiamo concluso questa questione 24 4